Il Paradiso, Agnese potrebbe tornare in città con nuovo stile di trucco e in minigonna. La settima stagione del Paradiso delle Signore va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16.05 sulla rete Ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming Rai Play. Gli spoiler della soap opera di stampo nostrano creata da Gianna Andrea Pecorelli. In merito agli episodi che saranno trasmessi dal 6 all'11 febbraio, evidenziano che l'assenza dalla sartoria dell'atelier Meneghino di Agnese Amato, Antonella Attili, peserà come un macigno. A farne le spese saranno soprattutto Flora Gentile Ravasi, Lucrezia Massari, e Maria Pulisi, Chiara Russo. Le quali dovranno smaltire per una consegna un'ingente quantità di prodotti fallati. A fronte di ciò, la stilista e l'assistente Sarta si metteranno alla ricerca di qualcuno che possa aiutarle in tal senso e la scelta delle due ragazze ricadrà su Francesco Rizzo, Cristian Roberto. Il quale nutre una vera e propria passione per il taglio e cucito. Nonostante non vi siano spoiler ufficiali in merito. Agnese potrebbe farsi influenzare dalle mode londinesi degli anni 60 e, di conseguenza, far ritorno in città sfoggiando un look del tutto rinnovato. Il ritorno di Agnese a Milano, tanto atteso dai fan della Sopra I, andrà presumibilmente a incastrarsi in diverse storiline, su tutte parrebbe spiccare la sistemazione abitativa dell'esperta Sarta. Dopo che Francesco e mamma Palma, Valentina Tomada, si sono insediati in casa a Mato. Oltre a ciò, i telespettatori dovrebbero vedere anche come reagirà Agnese e la new entry Francesco in Sartoria. Ma anche come si evolverà la storia d'amore della stessa col compagno Armando Ferraris, Pietro Genuardi. L'hub storiche potrebbe essere insediata proprio dall'amica Palma. Agnese, inoltre, potrebbe portare con sé un fardello non indifferente legato alla gravidanza della figlia Tina, Neva Leoni, e più precisamente alla paternità del bebè che darà alla luce la cantante. Il figlio della giovane Amato, infatti, potrebbe essere di Vittorio Conti, Alessandro Tersigni, Agnese potrebbe confessarlo ad Armando. Dopo il rinnovamento estetico di Maria, nella stagione attuale del Paradiso delle Signore potremmo anche assistere a un nuovo cambiamento in termini di look. Mutamento esteriore che potrebbe essere attuato da Agnese, la quale si lascerebbe trasportare dalle mode londinesi del 1964. Tornando nel capoluogo lombardo in minigonna e con uno stile di trucco del tutto nuovo. Nu mai am nimic de ascuns, pot să mă dus tot mai sus, mai sus, mai sus, tot mai, tot mai sus, 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 tot mai sus. Si poate-ti dau totul peste cap, ca poate fac doar lucruri care-mi plac, poate nu ma-mbrac la costum, poate nu-ti spun minciun, sunt liber sa fiu stapan pe ce fac si ce spun. Sti, nimic nu mai e la fel Popileria s-a maturizat sever S-a lovit pana acum de fel, de fel De oameni, de pareri, anti pur de caracter Si vad cum unii stau degeaba, frate, sunt multi, dar...